Buongiorno a tutti, noi siamo tre studenti del quinto anno di medicina. Lui è Luca Benassi, lui è Manuel Odesani e io sono Riccardo Vandelli. E quello che faremo è, partendo da dati di prevalenza di depressione, sintomi depressivi e di azione suicidaria negli studenti di medicina, affrontare i principi di applicazione degli interventi psicoterapeutici basati sulla mindfulness per poi dimostrarne l'efficacia in suddetta popolazione. Ma perché si parla in particolare di depressione negli studenti di medicina? Perché nel dicembre del 2016 è uscita questa meta-analisi su JAMA che si prefiggeva l'obiettivo di calcolare la prevalenza di depressione, sintomi depressivi e di azione suicidaria appunto tra gli studenti di medicina. Per farlo sono stati raccolti dati da 195 studi per un totale di 129.123 studenti provenienti da 47 paesi diversi. E i dati che sono emersi sono abbastanza allarmanti. Infatti il 27,2% degli studenti di medicina risulta positivo a depressione e sintomi depressivi. Inoltre l'11,1% riferisce ideazione suicidaria durante il corso di studi. Infine solo il 15,7% degli studenti risultati positivi, quindi del 27 iniziale, ha cercato aiuto professionale. Quindi si è rivolto a dei professionisti per risolvere questo problema. Possibili cause di questa sintomatologia sono imputabili all'alta competitività degli studi medici, che poi si traduce in alti livelli di ansia e stress che sfociano in questa sintomatologia. Importanti però sono anche le conseguenze, perché una diagnosi di depressione è stata collegata ad un aumentato rischio a breve termine di suicidio, ad un aumentato rischio a lungo termine di episodi depressivi e comorbidità. Seppur consideriamo che ci sono alte percentuali di medici già con sindrome di burnout alla fine della specializzazione, riteniamo opportuno intervenire. E la proposta che facciamo è quella di intervenire con appunto Mindfulness Based Interventions, che sono interventi psicoterapeutici che sfruttano le tecniche di meditazione Mindfulness e si possono svolgere sia in sedute di gruppo con degli istruttori, sia individualmente per conto proprio. La Mindfulness trae le proprie origini dalla tradizione buddista, in cui oltre ai cinque sensi che tutti conosciamo esiste un sesto senso, Mind, che potremmo definire come mente o consapevolezza, che però è un sesto senso fondamentale per il funzionamento di tutti gli altri cinque. Infatti, senza un buon funzionamento della Mind, gli occhi non sanno cosa vedono, le orecchie non sanno cosa sentono e così via. Ma non solo, perché senza un buon funzionamento della Mind, gli occhi non sanno nemmeno di vedere. E quindi la meditazione buddista ha come obiettivo proprio sviluppare questo sesto senso. Poi, come già accennato dagli studenti prima, è importante l'apporto di Kabat-Zinn, che nel 1979 fondò la Stress Reduction Clinic, in cui sviluppò il programma di Mindfulness Based Stress Reduction, dove le tecniche di meditazione buddista vennero proposte in una chiave più scientifica, nel senso di manualizzabile, ripetibile da chiunque. E questo è stato il successo di queste pratiche. Kabat-Zinn definisce la Mindfulness come prestare attenzione intenzionalmente, al momento presente, in maniera non giudicante. E vogliamo di nuovo sottolineare l'importanza di questo concetto del non giudicante, perché tutti gli interventi basati sulla Mindfulness ruotano attorno a questo modo di porre attenzione all'esperienza. È importante come si pone attenzione all'esperienza, piuttosto che il contenuto dell'esperienza in sé. E si pone attenzione, appunto, senza formulare nessun giudizio su di essa. I principi di applicazione di questi interventi possono essere riassunti nell'acronimo ABC. A, ovvero sviluppare consapevolezza, è il preludio della pratica, che solitamente inizia con il body scan, in cui si è portati, sistematicamente, a concentrare la propria attenzione sulle diverse parti del corpo, come viene mostrato in questa animazione. Start by getting into a comfortable position. You can sit in a chair with your feet on the floor or lie comfortably on your back. Relax your hands at your sides and find a position that just feels comfortable to you. Close your eyes. Focus on your breathing. Breathe in through your nose. Two, three, four. Breathe out through your mouth. Two, three, four. Breathe in through your nose. Two, three, four. Breathe out through your mouth. Two, three, four. Continue to breathe as you bring your attention to the very top of your head. Poi la pratica continua sempre in questa maniera molto rilassante, con questa voce molto rilassante, e continua concentrando l'attenzione sulle altre parti del capo, continuando poi anche sulle altre parti del corpo, quindi sul tronco, sulle braccia, sulle mani, sulle dito delle mani, sulle gambe e così via. Quello che normalmente può succedere è che la mente venga distratta, venga catturata da un cosiddetto pensiero distraente. Quello che bisogna fare è dare un'identità a questo pensiero. È un pensiero che riguarda il passato o è un pensiero che riguarda il futuro? Che emozioni suscita in noi questo pensiero? Ci preoccupa? E una volta data un'identità al pensiero, sempre in maniera non giudicante, lo si lascia fluire e si riporta l'attenzione alle sensazioni corporee. Poi B, che indica l'attitudine a fronteggiare le esperienze difficoltose piuttosto che rifugirne. Di fronte ad un'esperienza difficoltosa è facile attuare delle reazioni disadattive. Due tipiche reazioni disadattive sono il blocking e il drowning. Blocking, ovvero usare metodi distraenti che possono risultare dannosi, come per esempio l'abuso di sostanze, come le droghe, ma anche l'alcol, il fumo di sigaretta, che sono tutti metodi distraenti che però, senza risolvere il problema di fondo, potrebbero anche arrecare danni all'individuo. Drowning, invece, corrisponde alla ruminazione, ovvero un disturbo della forma del pensiero in cui si è portati costantemente a pensare e ripensare e ripensare alla stessa cosa, che solitamente è un pensiero negativo che riporta all'esperienza difficoltosa. Quello che invece insegna la mindfulness è di fronteggiare queste esperienze difficoltose con uno spirito di accettazione, uno spirito di contemplazione, non reagente, quindi sempre non giudicante. Possiamo fare l'esempio di uno studente che ha ricevuto una valutazione negativa, che è stato bocciato ad un esame. Questo studente potrebbe avere pensieri negativi, potrebbe avere pensieri di svalutazione della propria persona, delle proprie capacità, avere quindi un pensiero giudicante nei confronti di questa esperienza. E potrebbe attuare queste reazioni disadattive che ho appena detto. Quello che invece insegna la mindfulness è di accettare l'avvenuta di questa esperienza, prenderne atto, in quanto ormai è modificabile, e passare oltre. Infine C, una volta appresi i punti A e B, ci si trova in una posizione più vantaggiosa per prendere decisioni importanti su cosa sia più o meno opportuno fare. La mindfulness ha trovato largo impiego terapeutico sia in patologie di tipo psichiatrico, come la depressione, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione delle ricadute, disturbi d'ansia e stress, ma anche disturbi dello spettro autistico, disturbo ossessivo compulsivo. Inoltre, sembra avere miglioramenti anche per quanto riguarda patologie come psoriasi, fibromialgia e un miglioramento della funzione immunitaria. Bene, dopo aver capito cosa sia la mindfulness e quali siano le possibili indicazioni terapeutiche, concentriamoci sulla sua efficacia. Questo studio, uscito nel 2016 su Explore, valuta 19 studi diversi, è infatti un review article, con una popolazione complessiva di studenti di area sanitaria, quindi non solo medicina e chirurgia, ma ad esempio anche infermieristica, dietistica, riabilitazione psichiatrica, psicologia, e valuta l'efficacia di diversi tipi di interventi basati sulla mindfulness. In particolar modo, il mindfulness based stress reduction, la mindful gym, la mindfulness meditation e i programmi individuali, quelli che possono utilizzare CD e DVD anche in ambiente domestico. Gli outcome, ovvero ciò su cui si è cercato di capire quale fosse la reale efficacia della mindfulness, sono la mindfulness stessa, ovvero la capacità di fare propri i principi della tecnica nella vita quotidiana e quindi di riportarsi sempre a un pensiero non giudicante sulle esperienze negative che la vita ci propone. L'ansia, lo stress, la depressione, l'umore, l'empatia, l'auto-efficacia, ovvero la capacità di concentrare le proprie risorse cognitive e mentali su uno scopo che ci prefiggiamo. la resilienza, ovvero la capacità di fare fronte agli eventi stressogeni e negativi che la vita ci propina e risultati accademici, intesi in questo senso proprio come mera votazione ottenuta dagli studenti durante la pratica della tecnica. Ora, gli outcome riquadrati di grigio sono quelli su cui il review article non ha dimostrato un'efficacia della pratica, con un piccolo appunto in termini dei risultati accademici, perché seppure i voti ottenuti dagli studenti non erano più alti durante l'applicazione della mindfulness, comunque sono stati riconosciuti miglioramenti importanti su quella che era la capacità di studio e memorizzazione, pur prendendo comunque lo stesso voto alla fine, ma quindi il miglioramento era più concentrato sulla preparazione che non sul voto poi ottenuto. Mentre tutti gli outcome riquadrati in azzurro sono quelli su cui l'articolo ha testimoniato l'efficacia della pratica. In particolar modo concentriamoci su ansia e stress che abbiamo visto essere i fattori di rischio poi per lo sviluppo della sintomatologia depressiva, la depressione stessa e l'empatia, ovvero quella capacità di mettersi nei panni degli altri, di percepire le emozioni degli altri e se consideriamo che lo studio si rivolgeva a una popolazione di studenti di area sanitaria, ovviamente una tecnica che possa migliorare questa capacità non può che portare miglioramenti non solo durante lo studio, ma anche per la futura professione dei soggetti che sono stati trattati con questa tecnica. Bene, concentriamoci un secondo sull'ansia ad esempio e guardiamo il grafico. È stato tracciato utilizzando una tecnica di elaborazione statistica chiamata standardized mean difference, secondo la quale in generale un risultato complessivo negativo, proprio matematicamente negativo, è indice dell'efficacia della tecnica. Possiamo osservare come sia il valore complessivo, che è quello che nel riquadro grigio è definito con la cronica SMD, che il suo intervallo di confidenza sia completamente negativo, quindi l'ansia è stata migliorata dalla pratica e in più ovviamente il più value ci indica come il risultato ottenuto sia statisticamente significativo. La stessa cosa la si può osservare per lo stress, la si può osservare per la depressione e la si può osservare per l'empatia. Cominciando dunque ad avviarci alla conclusione, dobbiamo sottolineare come lo studio poi abbia ulteriormente classificato gli interventi, definendo come i programmi di MBSR siano stati più efficaci rispetto a quelli che utilizzavano la sola mindfulness meditation, ma tanto efficaci quanto la mindful gym e i programmi individuali, quelli che si basano appunto sull'utilizzo di cd, dvd, ma ora anche applicazioni per smartphone e tablet. Altre considerazioni riguardano il tempo dedicato alla pratica e la costanza nella pratica, due elementi fondamentali nell'ottenimento di quei risultati positivi di cui abbiamo parlato. Inoltre è una tecnica che si presta ad essere un'attività sostenuta in un gruppo e se consideriamo che stiamo parlando di popolazioni studentesche e possiamo considerare ogni corso di laurea come un gruppo, si capisce come sia un'ottima tecnica che possa essere utilizzata anche per ampliare, perché no, l'offerta formativa universitaria. Traendo quindi le conclusioni diciamo che la mindfulness è un intervento efficace ed applicabile per il miglioramento della qualità di vita degli studenti e inoltre auspicabile la sua applicazione per la risoluzione di disturbi depressivi ed ansiosi negli studenti universitari con interventi di gruppo come l'MBSR, ovvero la Mindfulness Based Stress Reduction, la Mindful Gym, la sola Mindfulness Meditation, ma anche programmi individuali, quelli che utilizzano CD, DVD ed app, che hanno un altro grande vantaggio, essere efficaci quanto gli interventi di gruppo, ma essere molto più cost effective perché potendo essere eseguiti in ambiente domestico con CD, DVD o un'applicazione per smartphone, i costi si riducono notevolmente. A differenza di interventi di gruppo, intesi come interventi programmati e calendarizzati che invece richiedono personale formato che possa insegnare la tecnica, insegnare come farla e elementi simili. Detto questo ringraziamo il professor Gian Maria Galeazzi che ci ha aiutato durante la stesura dell'intervento, speriamo che quanto appreso possa essere un po' utile a tutti quanti e vi ringraziamo per l'attenzione. Grazie. Allora ci sono delle domande? questo è un argomento simile a quello del precedente a me non è chiara una cosa, volevo sapere, non mi è chiara una cosa, secondo i vostri dati dunque, uno studente su quattro ha avuto diagnosi di depressione? Non proprio, cioè questi dati di prevalenza non sono stati calcolati con una diagnosi fatta da un professionista secondo i criteri del DSM, più una diagnosi fatta con dei questionari protocollati autosomministrati per poi stabilire un cut off su cui poi eventualmente dopo fare degli accertamenti, però non è una vera e propria diagnosi di depressione, è evidente che un disagio psichico comunque è presente, quindi gli interventi a nostro parere vanno attuati comunque. Grazie. Voi avete parlato di meditazione e di yoga, hatha yoga, a parte che ci sono tanti tipi di yoga, potremmo allargare il discorso anche ad altri tipi di prestazioni relative alla medicina olistica orientale, potremmo allargarlo i fiori di bacca, la cromoterapia, la cristalloterapia o voi vi limitate a queste due entità, cioè la meditazione e questo hatha yoga? Grazie. È tutto da dimostrare, nel senso che è sempre bello sapere che ci siano medicine alternative e funzionanti, però come abbiamo fatto noi, vi abbiamo fatto vedere una meta-analisi proprio che dimostra scientificamente che la mindfulness funziona, che è questa qua, quindi se i fiori di bacca hanno degli studi dove viene evidenziata la loro efficacia, ben venga, però ci deve essere sempre una base scientifica sicura su cui poi prendere le nostre decisioni terapeutiche. La mindfulness è efficace e le altre terapie non lo so e quindi non parlo. Io ho questo dubbio, ma forse mi è sfuggito, ed è una domanda che in realtà faccio anche ai vostri colleghi che hanno parlato prima. Cioè, da quello che capisco, l'efficacia di questa tecnica dipende, come spesso succede, diciamo anche nella farmacologia più normale, dall'utilizzo in maniera continuativa. ecco, non ho capito se esiste un modo per riuscire a misurare il fatto che il paziente, cioè in questo caso lo studente di medicina o il paziente oncologico nel caso precedente, utilizzi, quanto utilizzi, quanto sia diventato bravo a utilizzare questa tecnica. Cioè, se l'utilizzo di questa tecnica è omogeneo oppure disomogeneo, cioè quanto, se esiste una misura di questo parametro. Tra gli outcome, cioè tra i parametri valutati come risultati alla terapia di mindfulness, c'era proprio mindfulness, la mindfulness stessa. Quello è l'outcome, che vuol dire quanto il soggetto è diventato bravo ad applicare la mindfulness. Quindi è stata valutata proprio. Non so con quali criteri, purtroppo, non so con quali criteri perché non sono andato così... Quindi esistono dei criteri, diciamo, oggettivi che ti possono dire percentualmente, diciamo, qual è il cutoff accettabile per dire la popolazione che sto studiando è una popolazione che sta facendo, sta utilizzando quella tecnica... Che l'ha assimilato... Esatto, in modo adeguato. In modo adeguato. Sì, sì, è proprio questo outcome, mindfulness e i nostri interventi di mindfulness sono dimostrati efficaci, ecco. Sì, d'accordo. No, mi chiedevo questa cosa, hai capito? Se esisteva possibilità di misurare questo. Sì, sì, posso interonire. Allora, ci sono queste scale di mindfulness, è un questionario che viene somministrato. Quindi non è una misura oggettiva, è una valutazione soggettiva in cui viene chiesto alla persona quante volte durante il giorno ti sei trovato distratto, quando stai facendo una cosa ti vengono degli altri pensieri, sei attento a quello che fai. Quindi è una valutazione non oggettiva, è un questionario. Tutti quelli che lavorano in questo campo stanno cercando in qualche modo di trovare alcune misurazioni di carattere più oggettivo, ovvero in terza persona, che possano essere correlate in maniera riproducibile con quello che il soggetto dice, cioè con le affermazioni in prima persona, per vedere se si può trovare qualcosa. Ma ancora non si è trovato. Ad esempio, per mettere in correlazione il grado di valutazione soggettiva di questa consapevolezza con, ad esempio, l'attenzione. Uno può fare un compito al computer di rilevazione, di uno stimolo, per cui bisogna essere molto attenti, un compito molto vulnerabile alle distrazioni. Però il concetto di consapevolezza o mindfulness o sati, o quello che, insomma, è abbastanza, non è così riducibile alla sola attenzione. Infatti, implica anche una componente consistente di metacoscienza. Quindi, non è facilissimo. Io, più che un'ultima domanda, io più che una domanda, era una curiosità. Collegando entrambi i lavori, volevo sapere se si era mai fatto qualcosa sui professionisti, invece sul medico o sul personale infermeristico che lavora in situazioni di stress, ad esempio nell'ambito della chirurgia, se si è visto un improvement dell'expertise o comunque della percezione dell'intervento chirurgico in sé. Grazie. Io le rispondo per quanto concerne il mio lavoro e poi vi lascio la parola a Prisca. Nel nostro intervento abbiamo, in particolar modo nella mia parte, e i soggetti considerati erano non laureati e laureati. Poi non ho approfondito perché è per questioni di tempo. Comunque erano laureati e non. Quindi si stava considerando anche una fetta di professionisti post lauree, quindi già attivi. Io cito l'esperienza che ho avuto frequentando oncologia e so che esiste questo progetto che va già avanti da inizio anno, che si chiama Mind4Doc, che è il corrispettivo del Mind4Me, però per il personale, sia per gli specializzanti che per i dottori strutturati e così. e loro si ritrovano con un istruttore a fare questi corsi di Mindfulness centrati appunto sul burnout o comunque le possibili implicazioni che ha al fare questo mestiere. I risultati non ci sono ancora perché questo è in corso, quindi appena li avrò, me li faccio passare e te li giro molto volentieri. Grazie. L'ultima domanda questa volta veramente. Ultimissima domanda. Prima cosa, ci sono degli studi anche italiani su questa tematica e poi in maniera molto sintetica. Voi avete analizzato e dimostrato anche l'efficacia di una strategia terapeutica per un certo problema, cioè sintomi depressivi e ansiosi in studenti di medicina. Io volevo chiedere dal punto di vista preventivo, sulle cause, si può intervenire anche sulle cause? Se l'avete approfondito altrimenti è lo stesso. Grazie. Noi cercando ovviamente articoli per redigere questo intervento, insomma ci siamo accorti di come effettivamente la letteratura sia internazionale e non nazionale. Per quello che riguarda la parte invece preventiva, ma è una tecnica che ha fra gli outcome, oltre che alla depressione, che se vogliamo ormai è una situazione già a conti fatti, ansia, stress, il miglioramento dell'umore. Quindi siamo tutto in un ambito preventivo. In questo caso la sintomatologia proprio depressiva non è ancora presente. Aggiungo solo una cosa brevemente. Come ho detto prima, non sono vere e proprie diagnosi. Casomai molti di quel 27% hanno sintomi sotto soglia. Quindi l'obiettivo è proprio prevenire che questi sintomi sotto soglia poi sfociano in una diagnosi vera e propria. Bene. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.